E dopo i capsule opening, arriva il momento di sfidare Joseph nel pacco opening digitale di Fusion World. Ciao Giuseppe! Ciao a tutti ragazzuoli! Pronto a trovare lui, bro! Eh, allora bro, infatti volevo proprio dirti questo. Chi trova il Goku Ultraistinto vince automaticamente l'episodio, anche perché nella vita reale quella carta vale oltre i 2000 euro, caro Jomel. Ma è un botto, eh? Ovviamente il sistema sarà punti, caro Joseph, come l'Iro Colossium. Ovvero SR 1 punto, SR con la stellina 2 punti, SCR 3 punti, SCR con la stellina 4 punti. E poi è logico che se trovi la SCR con 2 stelline, bro, quitto il video e ti do la vittoria. Ah, questo volevo sentirti dire, bene. Sì, 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 sì. Allora, tu potresti avere più probabilità di trovare roba perché tu utilizzerai le gemme, giusto? Eh sì, è l'unico modo. Tu c'avevi i pacchetti, che devo fare io? Al mio 3 lanciamo, eh? Vai. 1, 2, 3. Let's go! Vediamoci sta animazione della vettura. Belli questi 10 pacchetti così. Bro, è bellissimo. Allora, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchetti bordo oro. 1, 2, 3. E io invece ho questi qua. Bro, che colore hai su qui? Sei viola? Sono viola, sì. Allora, allora, iniziamo dal primo pacchetto a sinistra. Ok, vado. Vai. Sono carine le animazioni. Bro, io ho 4 carte con l'oro qua dentro. Allora, vai, prima carta a sinistra. Vai. Bro, in realtà possiamo aprire tutto, in realtà, eh. Vai, facciamo, contiamo, no? 2, 3, 4 e ognuno clicca poi fino a 8. No, bro, già. Boh, io ho già aperto tutto. Hai aperto tutto? Sì, ho già aperto tutto. Uncommon. Che merda, bro. Che merda. Male, male? Bro, malissimo. Rara. Eh, questa è andata male a me, bro. Male pure a me. Va bene lo stesso, va bene. Nessuno ha fatto punti. Nessuno ha fatto punti. Bro, scegli il pacchetto che vuoi. E come lo scelgo? Devo fare next? Mi sceglie... Ah, è questo qua. Sì, 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 vai. Scegli l'altro pacchetto, allora. Vado già con questo viola, bro, il secondo. Vai, vai. Facciamo come hai detto tu, vai. Prima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No, ho trovato la leader. Niente, non vale? Eh, allora, la leader... Tra l'altro tu hai trovato la leader... USR! Broski! Eh, va bene. Ma attenzione! SR vale un punto, questa. Primo punto per Joseph. Mi trovo in parte perché in realtà, appunto, sembra che il bordo viola valga di più del bordo oro, perché il bordo oro dovrebbe essere tipo rara e basta. Mmm, ok. E mo tocca a me però, io mo muocare un pacchetto con il bordo viola però. Eh, mo me prega niente, bro. Eh, io mo vivo invece il pacchetto scarso, dai, mi posso sempre andare bene. Eh, ma tanto prima o poi dovrei aprire anche gli altri, quindi... Vai, prima carta. Bellino King Cold. Prisa. Bello, anche Meta Cooler. Seconda rara. Vai sulla terza. Rara, chillet! Vai, cazzo, mi serve per il deck. Buono. Bene. Attenzione, attenzione. Bro, io sono alla ultima carta. Anch'io. 3, 2, 1, via! Rara. Super rara! Let's go! Gli androidi! No, non ho stellina, scusami. No, niente stellina, bro. Quindi un punto normale. Perché non tu c'era la stellina? No, no. No, 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 no. Ah! Vai, bro, andiamo. Prossimo, prendo l'altro scarso, l'ultimo che scarso. Attenzione perché c'è un bordo blu. Attenzione. Che non è nell'oro. Non è... Aspetta, però bordo blu potrebbe essere leader, eh. Allora, prima carta. Seconda carta. Bordo blu. Leader Trunks. Come è te, bro? Ok. Quella è bellina, eh. Sì, è bellina, ma io starei cercando il leader cooler, gentilmente. Grazie. Andiamo avanti. Andiamo fino all'ultima. Io ho un'altra... Ci sono. Un'altra possibile super rara, eh. Te lo dico. Let's go! Via. Super rara. Super rara. C18. Io non sto capendo perché mi sta dando tutti gli androidi. Io non voglio fare il deck degli androidi. Vai, prossimo bustina, broski. Qua dentro non c'è niente, già lo so. Si sa. Vai, giriamo le carte. Io voglio contro... Ok, sì, si vede tutto. Perfetto. 3. 4. 5. 5. 6. Sì. 7. Oh! 8! È una rara! Wow, che cavica! Cazzarola! Ho trovato mecha freezer! Play up! Az! Mica male come carta! Oh! Eh, vabbè, io sto valutando solo ed esclusivamente la rarità. Ah, poi... No, no, fai bene, fai bene, bro. Molte sono utili, chi lo sa. Attenzione perché ho un'altra possibile leader! Allora. Attenzione. 1. Vai, conta tu, 2. 2. 3. Sì. Attenzione. 4. Leader Goku, che è quello del deck base. 5. Ok, io ho trovato leader Android 17. 6. Sì. 7. Leader Beerus. E 8 rara. Fortissimo, tra l'altro Beerus leader, fortissimo, fortissimo. Bello. Io ho trovato una rara, che è Goku Black, vabbè, niente di così incredibile. Va bene. L'ultimo pacchetto viola me lo tengo per la fine, però. Ok, ce ne restano 4 ancora, ti trovi? Sì, sì. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi hai trovato leader? Ah, Giniu. Leader è Giniu. Sì, vabbè, ragazzi, ma com'è possibile? Ma perché io ho trovato solo un leader? Eh, bro, ma secondo me perché io l'ho fatto con le gemme. Bravo. E con l'ultima, che è una rara. Bravo, sì. Io sono andato avanti col prossimo. Hai ragione. Ah, ma tu c'hai un'altra, i due, con il bordo mio. No, c'è uno, i due. No, bro, ma tu c'hai proprio... No, non si dice. Conta, conta. Eh, bro, vai, vai, io sono arrivato già alla quarta. Ti è andato? Ragazzi, questo primo pack opening a parte maluccio, eh. 7 e 8, un R. Vabbè. Mannaggia, ragazzi. Allora, io vado con il bordo viola. Vado. Eh, bro. Occhio. C'è solo un bordo viola. Uno. Due. Vado un po' a casaccio, eh. Ah, un po' a sfalzoni, vai. Sì, sì, un po' giù, un po' su. Uncamon. Rara. Allora, bro, sei pronto? Vai. 3, 2, 1, vai. Boom. SR per Peppe Niello The Gamer, senza stellina. Anche io SR, senza stellina. Un Goku Black. Va bene. Bello. Bello, bello. Ti piace, eh? Pazzo, però, costa 6, c'ha 40.000. Eh, no, bello. Bello forte. Eh, sì. Eh, ci vuole un po' per metterlo in campo. E poi, bro, c'è l'ultima bustina. Anche questa a bordo, credo, viola. Eh, qua, credo che tu andrai in vantaggio e mi darai probabilmente una bella scoppola, ti dico la verità. Me lo auguro. Eh, io invece un po' meno. Vai. Sto andando, eh. Arrivo all'ultimo. C'ho l'ultima carta che è rossa. È rossa, scusami, è oro. Eh, bro, 3, 2, 1. Via. Via. Bello. SR, squadra Geniu. Ho perso malissimo, bro. Eh, vabbè, io ero un po' avvantaggiato questa volta. Allora, però ti dico la verità. Questa cosa del chi utilizza le gemme ha più probabilità di trovare carte rare, mi fa un po' storcere il naso e ti dico perché. Di base questo nasce come gioco free to play, ok? Dove tu puoi giocare gratis. Ma se all'effettivo mi avvantaggi chi shoppa le gemme... Capisci quello che ti voglio dire? Eh, ho capito che vuoi dire. Boh, per carità, Giuseppe, la colpa non è mica tua. Non è che magari... No, 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 bro, ormai ho capito che ce l'hai con me perché io... No, 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 bro. Allora, io c'ho 12 ticket. Ne vado ad aprire uno. Ma così? Full open? Ma tu sei matto? Ma che merda. Va bene. Allora, ragazzi, la prima sfida pack opening su Dragon Ball Fusion World è arrivata al termine. E come immaginavo, la prima sfida se la porta a casa, Jomel de Gamel. Grazie, Giuseppe. Ma così, sì! Ciao a tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao.